Tasse e vase per ben sei anni a Siracusa. La Guardia di Finanza ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo su beni e conti correnti dell'amministratore di una ditta operante nel settore della fabbricazione di infissi in alluminio. In seguito ad alcune verifiche fiscali è emerso che l'imprenditore continuava a lavorare senza dichiarare i propri redditi e pagare le imposte. Ciò era iniziato nel 2011 e da allora non c'è traccia di documentazione che attesti i pagamenti. L'uomo avrebbe nascosto al fisco operazioni imponibili per oltre 2 milioni e 200 mila euro. Il sequestro preventivo, mirato alla confisca, ammonta un milione e mezzo di euro. L'attività della Guardia di Finanza si pone a tutela della sana imprenditoria al fine di prevenire e reprimere ogni condotta illecita che possa danneggiare il sistema economico e l'affermazione del principio di equità fiscale.